Buongiorno Popolo Rossonero, buongiorno Popolo del Madito, buon sabato pomeriggio con ovviamente da commentare le parole di Gerry Cardinale, ma non solo, un like al video prima di iniziare, se volete ovviamente iscrivetevi per dare forza al canale, non troverete tanti clamoroso, sconvolgente, fantasmagorico, pittoresco, meraviglioso, però trovate sempre un'opinione che magari a volte va un po' controcorrente, però può essere un aiuto, campanella per le notifiche e ovviamente se vi va di farmi un regalo, la cover del bandito e del collo del bandito ancora scontata nel link in descrizione, io vi ringrazio a prescindere. Allora, direi che le parole di Cardinale si possono riassumere in una parola, che è categoricamente, io direi che questa parola mette una pietra, una pietra tombale su tutti i discorsi, le chiacchiere e le fantasie che si sono diffuse in questi mesi su cambi di proprietà e via dicendo. Io credo che non valga, non si possa neanche dire, alcuni possono dire ma cosa volete che dicesse? No, no. Quando c'è qualcosa in ballo che va tenuto sotto traccia non si è così espliciti, non si fa un'intervista al Corriere della Sera, non si usa la parola categoricamente, non si è così, si è molto più fumosi, si usano parole, si mette quel per ora che lascia intendere che può succedere qualcosa. Insomma, sono altri modi di far passare un'informazione che vuole soltanto nascondere oppure lasciare la cosa sotto traccia, intanto lavorare. Qui siamo a parole troppo forti, troppo decise e direi che non so se fosse una cosa buona o fosse una cosa non buona, quello solo il tempo può far sì che si possano dare dei giudizi, quindi io non so se il fatto che entro l'estate, come ci raccontavano, non saremo in mano agli arabi sia una cosa buona o una cosa non buona, perché poi comunque gli arabi se arrivassero mai al Milan andrebbero giudicati per quello che fanno, non per altro. e quindi noi in questo momento, come sto sottolineando spesso e volentieri in questi giorni, dovremmo cercare di stare sul pezzo della stagione, cioè di fare i tifosi quelli che si compattano con la squadra, che si compattano con la società, anche se ci dovesse essere qualcosa che non ci piace, a chi magari non piace la proprietà, a chi magari non piace l'allenatore, lo vorrebbe cambiare, a chi non piace magari Leao, chi dice che Giroud è troppo anziano, ecco io direi che in questo momento il valore principale è la stagione, cercare di arrivare più in alto possibile in campionato e cercare di arrivare in fondo all'Europa League e quindi noi come possiamo aiutare la squadra, la società, compattandoci, restando compatti, restando uniti, difendendo anche a volte, magari anche se non ci si crede fino in fondo, ma difendendo chi è nel Milan in questo momento, chi lavora per il Milan, chi gioca per il Milan. E vedete, da fuori, io lo denuncio spesso, lo denuncio sempre direi, questa situazione in cui il Milan si cerca sempre di trovare il lato negativo quando c'è del positivo o quando c'è del negativo di aizzare il mondo social soprattutto contro una volta la proprietà, una volta l'allenatore, una volta Leao, una volta Teo Hernandez, Tizio, Caio, Sempronio. Ecco io, siccome più che altro io interpreto il canale come un servizio, un servizio verso la mia squadra del cuore, verso la squadra che amo, perché non ne posso più di vederla tirata in ballo, tirata in mezzo, di vedere cose che non vanno, di vedere coperture per altri e invece noi, guardate i giornali di oggi, guardate i giornali di oggi, Leao per il giornale rosa al Paris Saint Germain, Paris Saint Germain è sotto, siti che parlano di Teo Hernandez verso il Bayer di Monaco, altri siti che parlano di Mignon, c'è già di Gregorio, Mignon va via. Ma allora non abbiamo tutte queste pippe noi, no? Quando andiamo male sono tutte pippe, quando andiamo bene sono tutte pippe lo stesso, però tutti gli altri le vogliono e quindi quelle pippe se ne vanno, perché sono talmente pippe che le vogliono il Paris Saint Germain, il Bayer di Monaco, le squadre inglesi, le squadre più forti del mondo, quelle più attrezzate, quelle più economicamente forti, chissà come mai vogliono i nostri giocatori, ma andassero a prendere Tuffaro Martinez, andassero a prendere Tuffaro Martinez, ma perché dovete venire a prendere Leao che è scarso? Andate a prendere Tuffaro Martinez, andate a prendere Sbarella, andate a prendere lui, perché dovete venire a chiedere Loftucic, Leao, Teo Hernandez, Mignon e prendete Sommer, signori, e anche a parametro zero costa poco, costa pochissimo, prendete Sommer, prendete Acerbi, prendete quelli dei giocatori, lasciate in pace i nostri, perché noi non abbiamo tanto bisogno di soldi e siccome facciamo le cose fatte come si deve, in ordine, con i conti e tutto, noi ci accontentiamo in questa campagna acquisti, adesso che verrà in estate, di due o tre acquisti, visto che hanno dimostrato comunque di saper scegliere i nostri dirigenti e non dico questi o quelli di prima, dico sia quelli di prima che quelli di oggi, visto che quelli di prima adesso li rimpiangiamo, quelli di oggi tutti li vogliono, no? E quindi ragazzi noi ci dobbiamo compattare, perché se no qui oggi è Leao che se ne va, domani è Teo Hernandez che se ne va, Teo Tizio, Casio, Semponio, e dalle altre parti sono tutte rose e fiori, è tutto rinnovo, ma no, rinnovo arriva domani, arriva dopo domani, arriva tra tre giorni, ma arriva sicuro, perché? Perché siamo nel mondo di Narnia e a Narnia tutto funziona perché lo vuole occhio di lince, e quindi passa solo questo messaggio, bene ha fatto Cardinale, secondo me, bene ha fatto, a mettere una parola fine, vedete qualche anno fa io ricordo quando Yong Don Lee era in fuga, era in partenza e ricordo un'edizione straordinaria di un programma, insomma quella che io ho cancellato dal mio telecomando con quel direttore strano che bullizza un po' il Milan, e proprio quel direttore lì ha annunciato in pompa mania che le sue fonti, le sue fonti, le avevano rivelato che Preziosi stava acquistando in Milan, Preziosi, cioè ci affibbiava a Preziosi, capite la considerazione che hanno di noi? Ci affibbiava, noi dovevamo passare da Berlusconi con il triste intermezzo di Yong Don Lee a Preziosi, e le sue fonti erano fonti, noi dobbiamo difendere il nostro Milan anche da questo e soprattutto da questo, quindi bene ha fatto Cardinale a usare la parola categoricamente, categoricamente, io capisco che sia più bello, faccia più, no? Io so che funziona così, dove si vedono numeri grossi si va tutti, perché io sono abituato al contrario, io quando vedo tutti andare da una parte, non so, sono nato così, cosa vi devo dire? Se io vedo tutti andare da una parte, penso che ci sia qualcosa che non vada, allora di solito cambio direzione e vado dall'altra, quindi io capisco che grossi numeri attirino notizie importanti, notizie clamorose, notizie… e va benissimo, fatelo pure, non è un problema quello, a me il mio piccolo mi sta benissimo, non è un… però occhio, cioè quando vi arrivano, scegliete, cercate di… io sono felice di non aver cavalcato la roba degli arabi, di non aver cavalcato quelle notizie, perché secondo me in questo momento, a prescindere da tutto, non fanno il bene del Milan, in questo momento, e sono notizie che non reputo abbiano fondamento in questo momento, ma è una mia opinione, voi siete liberissimi di averla diversa dalla mia, infatti i numeri sono totalmente diversi tra alcuni, ma non è questo il problema, quello che il mio invito è compattiamoci, stiamo magari pochi, ma belli compatti fino alla fine di questa stagione, io direi che le parole di Cardinale sono inequivocabili, poi se qualcuno vuole continuare ad alimentare cose che secondo me a questo punto sono molto lontane, molto troppo lontane, e vabbè, ognuno si diverte come vuole, io vi invito a compattarvi e a stare vicino al nostro Milan fino a fine stagione, forza Milan!